ciao benvenuti su delta gaming qui è delta 89 come anticipavo qualche giorno fa stavo cercando di avvicinarmi al mio mercy in attesa di un evento campione leggendario extra dalle schegge antiche per poter raggiungere il mercy o comunque ottenere il campione leggendario e quindi raddoppiarlo non mi aspettavo che però questo arrivasse così presto e invece è arrivato già oggi quindi andremo ad aprire un po di schegge da importante sottolineare una correzione rispetto a quello che ho detto nel mio video scorso ero convinto di essere arrivato a 180 schegge quindi di essere vicinissimo al mio mercy invece ho sbagliato i conti mi ero dimenticato che nel periodo di natale anzi subito dopo capodanno nei primi giorni dell'anno ci fu un evento nel quale aprì delle schegge antiche e ottenni un campione leggendario un doppione nulla di che e quindi non feci neanche il video perché in quei giorni avevo difficoltà a registrare questo però non mi permette di fare il conto preciso considerando però che questo weekend ho aperto 106 schegge e qualcuna comunque l'apri all'epoca dopo aver trovato il campione leggendario potrei essere diciamo un 110 il che vuol dire che mi mancano almeno 90 schegge per raggiungere il mercy alla 200 più se proprio siamo sfortunati altre 20 per arrivare alla 220esima alla quale è garantito il campione quindi considerando che ho già nell'arco di qualche giorno riaccumulato 9 schegge totale massimo me ne possono servire mi immagino un 101 più queste 9 110 e dovrei esserci se siamo fortunati ovviamente prima quello che però farò quindi aprirò qualche pacchetto di volta in volta con le gemme perché ne ho accumulate tante non vedo il motivo per continuare a farlo se non per utilizzarli in questi eventi purtroppo per l'arciera ner gigante abbiamo ricevuto la notizia che questa settimana o forse la prossima inizierà un torneo in cui bisognerà livellare i campioni in cui i primi di ogni gruppo otterranno il campione il che vuol dire che solo chi spenderà grossissime quantità di soldi potrà ottenere quel campione per tutti gli altri comuni mortali come me ovviamente non è possibile quindi le schegge sacre che mi ero conservato non le potrò sfruttare per quello per oggi quindi ci concentriamo sulle schegge antiche comprerò un paio di pacchetti alla volta e poi le andrò ad aprire e vediamo fino a che punto dobbiamo andare avanti prima di trovare il nostro leggendario quindi andiamo ad acquistare subito i nostri primi pacchetti eccoli qua uno e due prendiamo anche un po di argento qualora ci potesse servire e iniziamo con i primi tre gruppi da tre almeno questa volta non c'è nessun punto di nessun evento che compare il che vuol dire che non possiamo sapere in anticipo se troverò o meno un leggendario altra cosa da sottolineare la probabilità degli epici ovviamente a quella base che ci penalizza un pochino se siamo alla ricerca di epici come nel mio caso che non mi dispiacerebbe trovare gli epici per la fusione di lady mikage me ne mancano ancora tre oppure uno dei due leggendari o entrambi ovviamente devo dire che però ho già trovato due epici in due gruppi da dieci il che è meglio di come mi è andata questo weekend quando c'era il duo per quindi a volte la fortuna è strana vediamo un pochino qua cosa esce ovviamente la maggior parte saranno blu ok quindi 30 sono andate vado a prendere altri pacchetti 1 2 o cari dei riscatto anche altrimenti ci facciamo poco eccoli qua e evochiamo e vediamo cosa troviamo la probabilità ovviamente non cambia resta sempre del 0,5 per cento quindi non è che aumenta man mano che apro schegge aumenterà solamente nel momento in cui arriverò oltre la due centesima per tre anni non ne ho trovato nessuno negli ultimi mesi ne ho trovati almeno tre ancora niente ovviamente c'è chi è fortunato e ne apre una e trova il leggendario e chi è sfortunato come solitamente sono io e ne deve aprire tutte fino all'ultimo vediamo se adesso ho parlato e verrò contraddetto ma solitamente non è così niente io ogni volta che vedo un epico spero che sia uno degli epici della fusione ma ancora niente u eccolo no deliana e ughir due doppioni tra l'altro neanche che mi servono aiuteranno per i guardiani della fazione sicuramente tra l'altro un altro doppione degli elfi ne ho tanti di doppioni degli elfi già e vabbè è andata così fateci sapere voi come vi è andata magari poteva andare meglio decisamente la mia fortuna continua a non girare vedremo come andrà prossimamente speriamo di trovare qualcosa di più utile al mio account neanche epici per ora che mi interessassero fateci sapere però voi quante schegge avete aperto e che campioni avete trovato e se vi piace provare questi eventi o meno ovviamente adesso ho resettato il mio mercy quindi il conteggio ripartirà per chi ho visto che lo chiede varie volte sotto i video quando menziono il mercy il mercy non è visualizzabile nel gioco l'arium non ce lo fa vedere proprio perché così è più teoricamente più difficile per noi tenere il conto e quindi potremmo tendere ad aprire più schegge di quelle che normalmente apriremo almeno questo secondo le loro statistiche però se utilizzate strumenti come rsl helper mentre aprite le schegge lui tiene in automatico il conto delle schegge che aprite dall'ultimo leggendario e dall'ultimo epico e allo stesso tempo potete anche segnarvele su un quaderno o nel mio caso io registrando i video posso semplicemente andare a rivedere i miei video precedenti e rifarmi il conto qualora rsl helper perdesse il conto cosa che invece non avevo fatto correttamente questa volta perché a gennaio avevo registrato un video ma non l'avevo mai postato con questo ovviamente per oggi ci fermiamo se questi video comunque vi interessano e vi piacciono lasciate un like iscrivetevi al canale e raggiungeteci su discord ricordatevi di commentare qui sotto come andate anche a voi e io quindi per oggi vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video e noi ci vediamo al prossimo video